Cesenatico, è chiaro. Cesenatico, avete sentito? Hai sentito? Abbiamo sentito, c'è con noi una vecchia conoscenza di Non è l'Arena. Noi avevamo fatto la prima manifestazione di Io Apro con Antonio, che ha visto prima il servizio sulle isole Covid-free e non era particolarmente felice, vero? No, assolutamente. Buonasera, dottor Giletti. Buonasera, Antonio. Tutto questo è imbarazzante, tutto questo ci porta a chiudere i nostri locali, a chiudere i nostri locali perché non ce la facciamo più. Dopo dieci mesi siamo punta a capo, sono imbarazzanti soprattutto i nostri politici perché non mettono insieme niente di ragionevole. Allora, io le dico solo questa, sabato ho fatto da mangiare, erano tutti all'esterno, do il primo e poi è venuto da piovere. Cosa faccio? Dottore, mi dica lei cosa devo fare? Ah. I clienti si sono alzati, pioveva e volevano andare via. No, io non li faccio andare via. Li ho messi dentro, io li ho messi dentro il ristorante, ho finito di fare il servizio, se no dovevo buttare via i secondi, dovevo buttare via i secondi e perdevo tutto l'incasso. Ma come possiamo ragionare in questo modo? E poi, le dico di più, ma scusi, noi che siamo, i fortunati perché abbiamo un dehore, un giardino? E gli altri 60% di ristoratori che sono chiusi e non sanno dove sbattere la testa. Ma cosa fanno loro? Ma noi dobbiamo pensare solo al nostro orticello? No, non è giusto. Noi siamo una categoria, purtroppo, allo sbando. Perché allo sbando? Il 6, il 6, faremo una grande manifestazione a Roma, ma non solo dei ristoratori, di tutte le associazioni possibili e immaginabili. Io mi sono tolto la maglietta di io apro per cercare di radunare più associazioni possibili. Perché noi dobbiamo far sentire la nostra voce. E la nostra voce è la voce del popolo, quello che non ce la fa più. Se loro mi vogliono tenere chiuso, mi devono pagare. Se no, fallisco. E allora, tanto vale che faccio un buco, prendo su tutto e me ne vado all'estero. Ho tre ristoranti, 22 dipendenti, li lascio a casa tutti. Non ce la faccio più, dottore, non ce la facciamo più. Antonio, lo sa che io so dalla vostra parte, da sempre.